ragazzi che siamo tamarri l'abbiamo sempre detto ma lui ha superato tutti il mio amico qua contattatelo perché lui aveva le mercati in piazza Wagner dove andava a prendere la frutta top e adesso ma che impianti ma che roba ma sei un cavallo sei anche qua la madonna ma sei il numero uno ragazzi chiamatelo che vi porta la frutta top a casa